Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'agenzia di stampa Italpress, oggi siamo con Claudio Barbaro, Presidente di ASI, Associazione Sportiva e Sociali Italiane, storico ente di produzione sportiva e riconosciuto dal CONI. Presidente Barbaro, lei è stato da poco rieletto alla guida dell'ASI, quali sono gli obiettivi che si è prefissato per il prossimo quadriennio? Ma molto semplicemente, il programma di un ente di promozione sportiva corrisponde al suo consolidamento, noi nell'ultimo quadriennio abbiamo raggiunto risultati eccezionali sia sotto il profilo numerico che sotto il profilo qualitativo per quello che riguarda gli eventi che abbiamo proposto. Dobbiamo cercare di renderli sempre più visibili, sempre più partecipabili e perché no farli diventare sempre patrimonio dello sport italiano, questo è il nostro obiettivo anche perché noi ci siamo posti sul mercato dello sport italiano come solutori di problemi, abbiamo una riforma dello sport alle porte, dobbiamo modificare l'assetto dell'ordinamento sportico italiano e vogliamo essere protagonisti. Presidente, l'ASI nei suoi primi 26 anni di vita ha dimostrato di poter contribuire quotidianamente all'evoluzione del mondo dello sport. Esattamente quello che ho detto in chiusura, lei mi ha fatto una domanda che io accolgo molto volentieri perché mi dà la possibilità di parlare di quelle che sono le riforme in cantiere, riforme che datano oramai da tantissimo tempo perché una riconsiderazione del modello sportivo italiano è ineludibile, dobbiamo cercare di capire come assicurare a maggior numero dei cittadini possibili il diritto allo sport. Ad oggi questo in Italia è accaduto attraverso una presenza forte del CONI ma che di fatto però ha concentrato su di sé tutte le dinamiche di carattere sportivo. Lo sport deve andare a 360 gradi, deve andare in una direzione ben precisa, a 360 gradi e guardare in tutte le direzioni possibili e immaginabili perché non esiste soltanto lo sport di prestazione, esiste lo sport come benessere e in quanto tale deve essere assicurato e portato a conoscenza e perché no ad essere praticato dal maggior numero possibile dei cittadini. Durante l'ultimo lockdown l'ASI è cresciuto ulteriormente, è diventato proprio un punto di riferimento per lo sport di base anche a livello di comunicazione. Sì perché noi abbiamo individuato proprio in quel periodo un vulnus dello sport italiano che era così come troppo concentrato sugli aspetti di carattere competitivo anche per quello che riguarda lo sviluppo dei rapporti interni al mondo dello sport è troppo concentrato sulle dinamiche organizzative interne. Quando di fatto la sagrande maggioranza dei problemi dello sport italiano gravano sulle spalle dei principali protagonisti, ossia le associazioni sportive direttantistiche e i volontari e i collaboratori sportivi. Abbiamo visto che questo trittico di erogatori di servizi non veniva considerato come avrebbe dovuto dalle istituzioni sportive e pubbliche italiane e noi abbiamo fatto il possibile nel momento di maggiore sofferenza per poter cercare di attenzionare le difficoltà di coloro che quotidianamente erogano servizi per il mondo dello sport e che di fatto stavano subendo per colpa del lockdown una crisi improvvisa, la mancanza vera e propria di ossigeno. Presidente Barbero, veniamo un po' all'attualità. Lei è in prima linea da sempre per la battaglia, a volte a non far chiudere palestre, piscine, centri sportivi nonostante gli aumenti generalizzati dei positivi al Covid-19. A che punto stiamo? Stiamo a un punto che non avremmo mai voluto incontrare nuovamente perché si è in qualche modo demonizzata l'attività sportiva, non comprendendo invece che il problema non può essere quello dello sport, quello della pratica dello sport perché semmai lo sport può essere anche per l'aumento della qualità della vita una soluzione ai problemi sanitari e di fatto si è creato questo clima da caccia alle streghe nei confronti dello sport che noi stiamo cercando di contrastare in tutti i modi perché si è parlato nella stragrande maggioranza dei casi per quello che riguarda il blocco dell'attività di blocco dell'attività sportiva, come se i principali focolai si annidassero all'interno dei centri sportivi. Questo non è vero, i centri sportivi italiani sono i centri più attenzionati per quello che riguarda il rispetto dei protocolli, bisogna assolutamente individuare anche quelle che sono le mele marce all'interno del sistema perché non è detto che non debbano esserci, ma va circoscritto a quel numero di persone. Dobbiamo quindi fare del tutto per andare a circoscrivere il problema per evitare che si arrivi a un'altra chiusura generalizzata. Andare verso una chiusura generalizzata dell'impiantistica sportiva italiana significa di fatto regredarne la morte. Bene, allora ringraziamo Claudio Barbaro, presidente di ASI e diamo appuntamento ad una nuova intervista con l'agenzia di stampa Italpress.